Io sono Francesca Long, io sono una studentessa e la mia passione è il canto. Nel talent sono la corista, ma canterò anche da solista, però non sarò una concorrente. Da questa esperienza mi aspetto di riuscire a creare un bel rapporto con gli altri concorrenti e di fare la mia passione il lavoro di tutta una vita.